Si vede, Presidente. Noi riteniamo che questa sia una discussione totalmente inutile, perché è qui che il Ministro Lupi avrebbe dovuto confrontarsi e dal confronto trarre le conseguenze ed eventualmente dimettersi. E non a porta a porta quel salotto televisivo che ha assunto ormai il valore di una terza Camera. Noi riteniamo che questo sia un atteggiamento totalmente inaccettabile e lo dimostra e lo attesta il fatto che gli altri parlamentari che fanno parte del mio gruppo oggi non sono presenti in Aula. E nonostante questo noi riteniamo che almeno due questioni debbano essere sottolineate. Noi siamo convinti che in ogni democrazia sana ed efficiente c'è un principio fondamentale che ne regola il funzionamento, il confine fra politica e burocrazia. E questa inchiesta, come altre, hanno invece evidenziato lo strapotere di un apparato burocratico. E dunque quel confine deve essere per noi assolutamente ristabilito. L'esito della sua vicenda era già scritto, Signor Ministro. Una vicenda imbarazzante. Così come però è imbarazzante lo è anche la situazione e la vicenda dell'intero gruppo di cui lei fa parte, che annovera diversi dirigenti ed esponenti di spicco coinvolti a vario titolo nell'inchiesta, in un'altra inchiesta, quella relativa al cara di Mineo. Inchiesta che mostra una fotografia chiara dai contorni ben definiti dei rapporti tra alcuni esponenti politici, cooperative e associazioni criminale. D'altro canto, noi lo andiamo ripetendo da tempo, che la gestione di quel fenomeno che è diventato emergenza per colpa vostra è un affare per la mala vita organizzata ai sedicenti associazioni di volontariato. E questi dunque, insieme alla vicenda che l'ha coinvolta, un altro edificante capitolo della storia di un partito nato qui dentro, formato da persone che hanno tradito il mandato dei propri elettori, che vi avevano accordato il voto per rappresentare un programma che avete disatteso, finendo a fare da stampella a questo Governo illegittimo, perché è solo dal voto popolare che si può trarre la legittimazione a governare, cosa che non si può dire del Governo del signor Renzi, che oggi la sacrifica e così fa il suo partito, perché le poltrone su cui siedono il Ministro Alfano e quella su cui siede il sottosegretario Castiglione sono più importanti della sua testa. Grazie. Grazie.